Il pareggio dell'Adriatico nel derby col Teramo ha lasciato tanto amare in bocca in casa Pescara. Tanto l'1-1 finale saputo di vittoria per i bianco-rossi di Guidi, quanto sulla sponda bianca-azzurra di sconfitta e di ulteriore resa per i propositi di alta classifica. Sono state significative anche le parole del tecnico Auteri e del presidente Sebastiani subito dopo il match. Da una parte il massimo dirigente che schiuma rabbia per la direzione arbitrale e per la prova deludente di chi è entrato. Dall'altro l'allenatore siciliano, che per la prima volta chiede scusa per la prestazione della squadra, non cerca alibi per la mancata vittoria, salvando anche la direzione arbitrale, si è assunto le sue responsabilità a Auteri e ha parlato di una collezione di figure di M, citandolo testualmente. Il dato di fatto è che Auteri resta sulla panchina e che la società continua a dare fiducia all'esperto allenatore quando è già iniziato col derby un ciclo di gare contro squadre solo sulla carta abbordabili, ma contro cui il Pescara, questo Pescara che stiamo vedendo, è destinato ad avere enormi difficoltà. Praticamente scontate perché continua a faticare ad assumere una vera identità, con la conseguenza che in campo vengono meno le certezze e si incorre in errori in entrambe le fasi di gioco. E allora, fino a che punto è giusto dare fiducia ad Auteri? La sensazione è che l'allenatore si sia un po' troppo snaturato, abbandonando il suo 3-4-3. I giocatori hanno enormi responsabilità su questo rendimento, tuttavia acuite dal fatto che il passaggio è stato fatto da Auteri senza che lui stesso sia convinto che quella sia la soluzione migliore. Resta un problema di equilibrio. Prima la squadra segnava e subiva tanto, ora segna e subisce molto meno, ma non cambia la sostanza. Il Pescara fa fatica a vincere le partite. E allora sarebbe il caso per Auteri di tornare a essere se stesso, di tornare al calcio in cui crede e per il quale ha lavorato una intera estate martellando i giocatori. Dall'altro, la società prenda la sua decisione. Se crede nell'allenatore che ha scelto e del quale conosceva il profilo, andrà appoggiato in toto. Altrimenti, meglio cambiare e farlo subito, puntando sul fatto che tra un mese e mezzo ci sarà il mercato e con un nuovo allenatore si potrà riaggiustare la squadra in base alle sue esigenze. Il Pescara ora ha l'obiettivo primario di essere squadra e di trovare certezze. Solo dopo si potrà tornare a vedere la classifica. Domenica intanto la trasferta in casa di un Ponte d'Era, squadra di categoria, che ha trovato nell'ex terramano Magnaghi la sua bocca da fuoco. Mancherà Memushai? Toccherà quel di Ambo, sollecitato apertamente da Auteri e criticato implicitamente da Sebastiani? O lo stesso Auteri ne approfitterà per riproporre il fedele 343? sarà uno di quegli interrogativi che accompagneranno le giornate di avvicinamento alla gara del Mannucci.